crea un piccolo alpaca. Ma no, questa è una pecora. Non siamo in Sardegna. Dammi il mio alpaca. Ecco, ora ci siamo. Rispetto. Agli altri alpaca. Il suo collo continuava ad allungarsi. Non si fermò e diventò lungo come quello di Raikou Forma Paradox. Divenne così lungo da superare le nuvole. Wow, ora è davvero lunghissimo. Lascia like e iscriviti se vorresti un'alpaca.